famiglia e sacra famiglia di massimiliano bernardi quando si forma la famiglia generalmente i due nubendi si proiettano in un futuro pieno di aspettative e di felicità grandi sogni si affacciano dalla finestra della vita il cuore si dilata e si colora ad un roseo venire nei casi più umorigerati predomina una più realistica cauta speranza pochi pochissimi uniti da un amore concreto si preparano ad affrontare gli inevitabili giorni del dolore anche se tutto scorresse tra agiatezza e benessere l'ombra del vuoto che sempre accompagna una vita frivola prima poi farebbe il suo trionfante ingresso spadroneggiando sulle anime che hanno perso il senso profondo del vivere pure quella irrefrenabile attrazione iniziale che calamitava i due giovani sposi in un clima di uforica effervescenza con gli anni alle volte ahimè solo dopo pochi mesi si trasforma in noia in fastidio dopo aver calato in una persona fisica tutti i nostri ideali giunge implacabile l'ora della delusione si inizia a conoscere il conuge con tutti i suoi difetti e ci si accorge di aver amato non una persona reale ma la sua idealizzazione anzi se si è veramente capace di guardarsi dentro con onestà e con mente lucida si dovrà ammettere che con le sole forze umane non si è fatto capace di amare in una vita familiare in cui i legami si fondano soltanto su elementi materiali e principi puramente umani l'epilogo è sempre il fallimento negli ultimi decenni le cosiddette famiglie allargate o con genitori separati sono aumentati in maniera esponenziale l'amore che le tiene unite direbbe dondolino ruotolo è come un fuoco alimentato da sarmenti all'inizio alimentano la fiamma poderosamente ma dopo essersi velocemente consumati non resta che cenere solo l'amore di dio produce una fiamma che non si estingue mai anzi più si ama più si alimenta il fuoco che riscalda i cuori dei componenti della famiglia la sacra famiglia è il prototipo il modello l'archetipo in cui si promuove l'amore vero quello cementato in dio con esso si corrobora il legame tra i suoi membri anche quando arrivano le tempeste con esse le sferzate del dolore che divario abissale tra essa le famiglie di oggi che rincorrono giochi e divertimenti per restare infine più vuote di prima e proprio quando si pensa di solidificare l'amore fino all'ebbrezza di emozioni piaceri sentimentalismi le aspettative di una felicità duratura umanamente intesa si infrangono contro la roccia dell'esistenza quotidiana il dolore allora paradossalmente può diventare la chiave di volta per aprirsi a una nuova prospettiva della vita per far sbocciare un amore vero che riaccende una fiamma morta e la rende inestinguibile come un prolungamento del roveto di mosè nessuno dei futuri coniugi pensa mai abbastanza al dolore che accompagna il cammino dell'uomo è più semplice esorcizzarlo ma esso resta una straordinaria e misteriosa realtà dell'esistenza umana esso purifica indebolisce l'egoismo e fa guardare l'altro con occhi nuovi rende sensibile a chi sia vicino all'ascolto dei suoi problemi e delle sue difficoltà ci rende accondiscendenti nell'ecito comprensivi e sgretola il duro piedistallo di pietra su cui si erge l'io ci rende disponibili ad appianare le difficoltà a cercare soluzioni a considerare con più attenzione i punti di vista alternativi la sacra famiglia esperta nel soffrire non è stata esente dal dolore e dalle mortificazioni a cominciare dalla mancanza di un luogo accogliente per dare la luce colui che è la luce giunge poi la prova della fuga in egitto per sfuggire al sanguinario rode l'amarezza per lo smarrimento di gesù e poi ancora la povertà della conduzione familiare impariamo dunque dalla sacra famiglia se vogliamo gettare solide fondamenta per edificare l'architettura di tutte le famiglie in modo che i singoli membri possano imparare ad amare dio ad affrontare le prove della vita e realizzare la missione che lui ha affidato a ciascuno di loro